e allora amici che cosa vi hanno regalato oggi che cosa avete vinto avete aperto il vostro conto sui bitcoin avete vinto un ipad un iphone un buono sconto speciale e poi andando a digitare che cosa avete vinto in realtà vogliono che voi vi regaliate il vostro indirizzo numero di telefono l'email e tutte le notizie di più state attenti amici miei mentre leggete le email mirabolanti che vi arrivano ogni giorno non ci si arricchisce con i bitcoin e non si vincono premi mirabolanti sono tutte modalità o per spillarti qualche centinaio di euro o per spillarti il tuo nome cognome ed indirizzo grazie 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 grazie